Accadde oggi! Tre ponti e un bivio. A Cimagogna si è consumata una pagina singolare nella storia dell'Unità d'Italia. La data è quella del 14 agosto 1866, giorno in cui si svolse la battaglia di tre ponti tra Regno d'Italia e Impero Osburgico. Sette anni prima c'era stata un'altra battaglia con lo stesso nome ma in provincia di Brescia. Là avevano dominato gli austriaci mentre in Cadore finirà in tutt'altro modo. La lotta per il confine durante la terza guerra di indipendenza si consuma tra il Comelico e appunto la località Tre ponti in comune di Vigo di Cadore, punto nevralgico alla confluenza tra Lansiei e il Piave. Una scacchiera sospesa sulle arcate su cui i Cadorini decidono di giocare la partita decisiva quando la sera del 13 agosto gli austriaci si fermano a Santo Stefano di Cadore. Alle 6.30 del giorno successivo le milizie imperiali sono ad Auronzo e battono casa per casa requisendo le bandiere italiane. Due giorni prima a Cormons in provincia di Gorizia è stato firmato l'armistizio che pone fine alle ostilità tra Italia e Austria ma gli asburgici in Cadore questo lo ignorano e così sparano contro la delegazione parlamentare italiana che dovrebbe portare loro la notizia. Fino al pomeriggio a Tre ponti voleranno le fucilate. La parte italiana si gonfia di nuovi volontari con il passare delle ore, gli austriaci non riescono a espugnare il varco decisivo. Alle 16 l'inviato della giunta provinciale di Belluno riesce a ottenere il cessato il fuoco. Agli austriaci viene comunicato che le ostilità sono cessate da due giorni e che quella battaglia non ha senso né legittimazione. Stretta di mano tra i capitani d'armata e poi, questo viene tramandato su questa storia, l'incredibile epilogo con tanto di brindisi in osteria. La guerra però non è un gioco e sul campo perdono la vita tre austriaci e quattro cadorini caduti per una battaglia che non si sarebbe dovuta tenere. Oggi, oltre all'allestimento a lato della carnica, sul luogo di quello scontro rimane il cippo posato in quegli anni.